Vincenzo Rescigno esce dalla lista di piazza ed entra nel gruppo misto. Il consigliere comunale, eletto al secondo mandato con la civica del sindaco, ha rotto con la sua lista a causa di alcune incomprensioni con il presidente del gruppo, l'assessore Giorgio Rossi. Una frattura giudicata insanabile che a radici già nel periodo della campagna elettorale profonda tanto da fargli fare un passo di lato, seppur sempre fedele alla coalizione di piazza, la cui stima e il cui appoggio anche a seguito di questo divorzio non verrà meno. È ovvio che è accaduto qualcosa, quindi non rientra nel mio stile essere ipocrita, è giusto che dia delle spiegazioni quantomeno minime ai miei elettori, nonché ai cittadini. Quindi vi sono state le incomprensioni con un componente più maturo di me, della lista di piazza a Giorgio Rossi, incomprensioni ritengo insanabili, e quindi ho preferito fare un passo di lato, ma la cosa importante è che comunque io resterò sempre un sostenitore del sindaco di piazza, farò parte della sua squadra come sempre, perché ritengo che Roberto Di Piazza sia una persona politicamente e umanamente straordinaria. Alla domanda se avesse già avuto contatti con qualche altro gruppo di maggioranza per un eventuale accasamento, Rescigno risposto così. No, per adesso no, è necessario per me un periodo di riflessione, poi saranno i tempi e gli eventi a stabilire, a scrivere il mio futuro politico.